Vai Jack! Vai Jack! Vai Jack! Vai, vai, vai! Guardi! Chi è? C'è Patrick! C'è il canotto! C'è il fratello di... ... ... ... ... ... ... Michi, Scefio, frontale, frontale, una, una! Bellissima, brava, bellissima! Buono, regà, respirare! No, certo, non l'altro, non l'altro, non l'altro! No, certo, non l'altro, non l'altro! No, 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 no! Dai, 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 devi prendere subito! Sinistra, forte! Sinistra! Sinistra! Non l'altro, non l'altro, non l'altro, non l'altro! Vorrei aprire il mio canale YouTube! Sì, best videos! No, no, ho appunto! Vero? Oggi sull'ultimo! Sono un uomo, con forza! Danno l'ultimo! Danno l'ultimo! Ok, con calma! Eccacchiello! Dai, eh! ma te lo fai qua e lì dai piedi ma facciamo i dampe no dampe chi sei la Master? perché l'ultima volta non sono venuto quindi ho pensato che un po' di rega gliel'avesse dato assù no piedi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.